Ciao a tutti, oggi vi presentiamo il tester attraverso un libro. Il tester alla portata di tutti, autore Davide Scullino, editore Libri Sunnit. Attraverso questo semplice manuale potrete capire e imparare che cos'è un tester, come funziona e come usarlo. Il costo del libro è molto limitato, 8,90€. Insieme al tester lo troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com Vi aspettiamo per i prossimi video, continuate a seguirci, grazie a tutti e a presto!